Ben trovati, benvenuti a questo 63esimo podcast dedicato a un grandissimo, che dire, qui parliamo veramente di un grandissimo pensatore. Stiamo parlando di Ludovico Antonio Muratori, il cui nome a volte è citato anche come Ludovico Antonio. Nacque a Vignola, città della provincia di Modena e dal 2001 sede principale dell'Unione di Comuni, Unioni Terre di Castelli, nacque nel 1672 e morì a Modena nel 1750. Fu un presbitero, storico, scrittore, numismatico, numismatico allo studio scientifico della moneta e della sua storia, diplomatista e bibliotecario italiano e chi più ne ha più ne metta. Fu un personaggio di primo piano nella costellazione dell'intellettualità settecentesca italiana e profuse il suo impegno in quasi tutti i campi della conoscenza. Viene ad oggi considerato il padre della storiografia italiana e con particolare riferimento alla medievistica. Se abbiamo Barbero, l'eccellente Barbero lo dobbiamo anche a Don Muratori. Allora, Muratori orientò tutta la sua opera di storico entro un'intuizione e concezione del mondo adeguata alle esigenze ovviamente della sua fede. Compilò la monumentale raccolta Rerum Italicarum Scriptores che sono 24 tomi che per la quantità delle fonti edite e per l'organicità del piano di pubblicazione sono la prima grande raccolta di fonti medievali della storiografia moderna. Cacchi e Ceno Biografico era di modesta famiglia, studiò a Modena, si laureò, fu ordinato sacerdote, fu assunto come dottore all'ambriosiana in contatto con la religiosità di Maggi di cui curò l'edizione delle rime. La corte estense, la figura del duca Rinaldo I d'Este, lo chiamò a dirigere nel 1700 la biblioteca modenese. La corte estense gli offrì ogni comunità di studio, si vede che avevano imparato la lezione quanto avevano fatto penare il povero Ludovico Ariosto, ma con muratori avevano evidentemente la corte estense e aveva imparato la lezione. I muratori trovavano a Modena le condizioni di tranquillità fondamentali per la compilazione del suo lavoro. Da allora la sua vita si svolgerà fra un'esemplare attività sacerdotale nella parrocchia di Santa Maria e la produzione scientifica straordinaria per continuità, per mole e per metodo. Nella sua opera muratori non venne mai meno a un preciso impegno di verità che si esplicò soprattutto nel campo della storia, alla quale lo indirizzavano la tradizione dei padri maurini e di Bacchini. È un'istintiva tendenza quelli seppe procurare attraverso la sua lunga esperienza di ricercatore la guida di una perfetta metodologia. La sua storia essenzialmente politica vuole essere la ricostruzione, rigorosamente documentata di come sono andate le cose senza preoccupazioni apologetiche, distinguendo le cause degli avvenimenti ricostruibili con indagine umana delle vie della provvidenza certe ma impescrutabili e con assoluta indipendenza di giudizio che lo portò a sottolineare anche i torti del papato. Attenzione, qua Machiavelli avrebbe ballato una contraddanza. Ricordiamo che dobbiamo a Machiavelli il pensiero critico sull'azione della Chiesa di Roma non così forte da unificare l'Italia e non così debole da permettere agli altri di unificarla. Lungo sarebbe ricordare tutti i risultati della sua incessante attività e certo in questo podcast non possiamo permettercelo. Tentò in ogni modo di ricostruire una storia d'Italia al di sopra del frazionamento degli stati della penisola dalla nascita di Cristo ai suoi tempi, indirizzo che sarà particolarmente apprezzato in clima risorgimentale, ma soprattutto nelle Antiquità Italice Medievi che gli dà la misura della sua grandezza di storico. Sono udite udite, aprite bene i padiglioni auricolari, 76 dissertazioni sulle più svariate questioni della storia del comune, delle istituzioni, dell'economia, della religione, della letteratura. Muratori vi profuse i tesori della sua esperienza unica di medievista, proponendo per alcuni problemi soluzioni ancora oggi si badi valide. Postumai furono pubblicate le dissertazioni sopra le antichità italiane e i 14 volumi del suo epistolario. L'epistolario addirittura per arrivare all'epistolario bisogna arrivare al novecento, ricordiamo fu il novecento a dare molta importanza allo studio degli epistolari per ricostruire personalità storiche, che bene testimonia il suo spirito enciclopedico aperto con sereno equilibrio ai problemi della cultura europea. Quindi anche se è morto, Muratori è morto nel 1750, si può chiaramente, come dire, ascrivere alla categoria di enciclopedista e quindi di illuminista. Su questo piano si ricordano altresì l'opera dei difetti della giurisprudenza del 1942, in cui è auspicata una semplificata codificazione delle leggi. Attenzione ragazzi, siamo nel 1742, in cui è auspicata una semplificata codificazione delle leggi. Nel 2020 non ne siamo ancora venuti a capo, è il saggio della pubblica Felicità, 1749, dove è prospettato l'ideale politico di un governo che, ispirato a ragione e virtù, moderato e legalitario, realizzi il benessere dei sudditi. E qui potremmo stappare una bottiglia di cristal. Nel campo più proprio delle lettere, oltre alle biografie di Petrarca, di Castelvetro, di Tassoni, di Maggi, lasciò Dissertazioni intorno alla poesia e all'arte, del 1706 della perfetta poesia italiana e le Riflessioni sopra il buon gusto del 1708. Riflessioni sopra il buon gusto che metteremmo come lettura obbligatoria in tutte le scuole della Repubblica Italiana ancora oggi, sì signore. Un libro del 1708 forse ci farebbe, come dire, ritarderebbe l'attuale barbarie, che gli assicurarono un posto notevole tra gli studiosi di letteratura e di estetica del Settecento. Insomma, lo capite da voi senza ulteriori glosse e accascianti glosse. Dalla sua opera è emerse sempre più nitidamente un vivo spirito nazionale, la coscienza delle debolezze dell'Italia, la necessità di unificare la cultura italiana per rivolgerla all'unico fine nobile, non l'onore ma il bene comune. Muratori non fu per niente un vanaglorioso nevvanesio, ma un pensatore del Settecento che ebbe sempre ben presente la necessità di una unificazione culturale e un continuo, incessante lavoro sulle debolezze del bel paese. Insomma, cosa resta vivo ancora oggi del Muratori? Tutto, tutto. Il suo impegno religioso, il suo impegno intellettuale, il suo impegno sul piano civile, dove appunto intravedendo l'esigenza dei tempi di muovere ad un più concreto bene pubblico, ribadì il valore dell'educazione, sottolineato altre volte, della scienza, delle riforme e della religione stessa, della giurisprudenza, che aveva capito, già capito, che andava riformata, andava semplificata. Ad esempio, questo per far notare anche la sua influenza nel mondo forense, nel 1726, Muratori scrisse una lettera, nota con il nome del codice, Carolino, Sive del nuovo legum codice istituendo, lo inviò a Carlo VI d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, re di Napoli, come Carlo VI, al ciruca d'Austria, re di Sicilia, re di Sardegna, duca di Parma e Piacenza, eccetera, insomma, un personaggio abbastanza importante, invitandolo ad una semplificazione autoritaria del diritto, attraverso una selezione riduttiva e una concentrazione delle leggi in un piccolo tomo ufficiale. Tale lettera non fu mai presa in considerazione, rimase inedita, fino alla pubblicazione nel 1935 da parte dello studioso Donati. Però questo, anche se non fu presa in considerazione dall'allora imperatore del Sacro Romano Impero, però allo stesso tempo mostra la dimensione europea, la dimensione di circolazione del sapere, dell'esperienza, della cultura che c'era in quel periodo. Forse facciamo una conclusione banale, anche sicuramente, non ci interessa, ce ne fosse oggi. Grazie per l'attenzione, vi suggeriamo di iscrivervi al canale Simone Gulleri YouTube, lasciare like, commenti, discussioni, suggerimenti, migliorie, compagnia bella, e ci ritroviamo al 64esimo podcast dedicato alla figura di Bartolomeo Intieri. Grazie per l'attenzione, alla prossima!